Accusato di assenteismo con altri impiegati dell'ente, un dipendente del comune di Sulmona, Luigi Paolini, si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione. Dopo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, nei giorni scorsi la Corte dei Conti gli aveva chiesto il pagamento del danno erariale. L'uomo, sessantenne, era tra i 25 nell'elenco dei giudici contabili. Al dipendente venivano contestate solo delle timbrature fatte per conto della sua responsabile. Un danno di 55 euro a cui la Corte dei Conti aveva aggiunto la richiesta di altri 15.000 euro per il danno d'immagine. Così oggi l'amministrazione comunale si stringe in segno di lutto alla famiglia Paolini per la prematura scomparsa. Il primo cittadino ieri ha voluto incontrare i dipendenti comunali in una riunione a porte chiuse in aula consigliare per parlare di quanto accaduto. Per questo sono saltati in comune anche gli incontri politici. La notizia per la morte di Luigi ha colto tutti di sorpresa a Palazzo San Francesco. In pochi vogliono parlare e nei corridoi si respira un clima molto teso. Oggi è un momento per stare in silenzio, un momento per pregare e basta. Grazie. 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 Grazie.